Un premio ai figli migliori di Roma, ovvero a coloro che indipendentemente dal lavoro svolto contribuiscono a far emergere delle buone pratiche capaci di arricchire la città. Torna per il quarto anno consecutivo Roma BPA. Quest'anno premiate scuole, associazioni, aziende e anche nuove categorie. La quarta edizione con tante novità importanti e belle. E' una giuria sempre più amante di Roma, si è aggiunto oltre che Luca Barbarossa Paco Lanciano, sono nomi davvero belli ed importanti. Sì, abbiamo voluto pensare di aggiungere delle categorie anche vedendo come sta andando la città e quello di cui c'è bisogno. Abbiamo chiesto a Danaci, che è una delle associazioni che si occupa degli amministratori di condominio, di darci una no per premiare quei condomini solidali, perché noi crediamo che la vita sociale parta all'interno di un condominio. Ci sono tante realtà a Roma che fanno bene il proprio lavoro e proprio addirittura a partire dal condominio riescono a trarre una struttura sociale importante. Poi un premio per i giornalisti che parlano di Roma in maniera corretta, non solo bene, ma in maniera corretta. Invitate a dare il proprio contributo le aziende che possono sostenere Mamma Roma e i suoi figli migliori con servizi, finanziamenti e ore lavoro.